ma finalmente qualcuno che lo riconosce al volo come qualcuno che dice io vedo che inscita ma quali bambini sti dice ma chi è che ragina io sono fan di di kenshira ma guarda che ci sono tutti i bambini quali bambini o qualcuno che lo guarda e fa ma quello è venom ma meno ma è quello nero questo è quello rosso come qualcun altro secondo dracula è vero ma hanno messo il conte dracula la verità quello è dottor strange non è il dottor dragon ma in tutto carnegie anche nel fumetto è sempre stato smirson in confronto al ma non quanto veno ma qua nel due nel trailer che fanno vedere carnage rispetto a venon è molto più magro si si carnegie c'ha più c'ha le code cosa che venon non ha non ha le code affilate è su netflix neanche io l'ho visto però nel trailer si vede che carnegie l'ha fatto molto più magro si hanno gli occhi c'ha gli occhi più brutti quelli di carnegie fanno schifo quelli di venon si ci si uniscono i mondi hanno messo quello di the amazing e quello di mcguire ma sai invece che te lo fanno vedere in spider man che vengono così di quadra di spider man perché loro in spider man primo si sono si sono affrontati loro magari in un altro universo però si sono affrontati anche se il giocatore che mi ha ucciso è proprio dove c'è la mia testa buona notte chiami bella partita c'è una moto c'è buona notte c'è una buona notte per una camminata non ti fai morta su mio account Tom ho cercato di evitare è tutto che hai avuto? ti spendi tutto questo tempo con una lady killer come Sam Trapani e la migliore linea che hai avuto è una buona notte per una camminata beh è vero, non è? sì, credo eh già si siamo fatti ammazzare da uno che si è fatto ammazzare dal computer ho fatto ammazzare da uno che si fa ammazzare dal computer Sì, è vero. Sì, staccato Emigrazziamo tutti! Per cui lavorasci? Salieri potrebbe essere la grande 6 quando ero più giovane... Ma è il contrario... Cosa? È solo un po' di tempo prima di che Morrello poteva il suo ticket Io ho bisogno di Salieri... O qualcuno altro... Non per questo Beh... Allora... Vediamo quello che hai, Cacchino Un pico giovani... E' un po' di tempo, non? E' un po' di tempo... E' un po' di tempo! Ma non l'ho così... Oh, no... Oh, questo per coltello, invece? Eh, lo portavo con i coltelli, eh. Matta. Get away from me. Get away from her! Bebom! Tommy! Ah! è questo da assi cazzo scemo scemo ma ahia ma guarda ma guarda ma guarda Appunto Eh, se me ne ticcio Ticcio le ticcio Ticcio le ticcio Oh Ticcio le ticcio Ticcio le ticcio Ticcio le ticcio Ticcio le ticcio E si inizia col crashing Attenzione Crescing estremo Non siamo molto male Beh Come in and take a load off or what? Wondering when you'd invite me up The bank's closed slugger I'm just gonna patch you up is all Now go sit down on the couch roll up your sleeve I'm getting my sewing kit Doesn't look too bad Do you need something for the pain? No, I'm fine You don't have to do that What? I can see it fucking hurts, Tom You want to pretend it don't go as Polly to stay Polly What do you get? Oh Mi fanno il volo Complimenti di Dan Sì In connessione O il PSN Sì Tutto oggi non è successo Poi Beh sulla sera Tutto così Tutto così It's gonna take as long as it takes The chess The update The scar They're right You Stiched up a lot of fellas Mmm Just my father Ma io would really go after Luigi sometimes He got pretty good at duck and dinner plate Ecco che adesso l'apri fa il volo e me la trovo sotto casa. Un lancio lungo. Salvata! C'era un uggio... ...tellis dronco. Non è il mio migliore lavoro, ma... ...l'acqua. Un'acqua sarà qualcosa per te ricordare, se non altro. Tu stai finito. Non ti puoi spiegare nel vicino di Paiide. Non quando i questi cittadini stanno cercando a te guardare. Si, ok. no no e il suo no 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 no